Buongiorno Allora, volete salutare? Ciao! Mi sembra di essere con un branco di mongoldi Non c'essimo No mi thing E' il gatto che vuole distruggere tutto No mi thing No, aspetta Se vuoi scrivete Hashtag Ask Terry Vai pesca A caso Ahahah E vai Come l'ho chiamata? Oddio Ripresco il salato Allora Mancano queste tre cose E' una palla Spero di essere inquadrata Questo lo metti No telecamera Avevi smesso di cadere dai ti prego non suicidarti Si apri da sopra Smettila Ok metti a caso Io mentre mi grazo il naso tu riesci a tagliarla Ovviamente taglio un sacco di scene Ma che cavolo stanno facendo lì? C'è uno che sta dico cadendo dalla finestra Non ti buttare E adesso precipitiamo E' un rosetto sul dente Io no Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti